Oggi cominciamo a vedere, dopo aver visto la parte sulla natura generale delle onde, le loro caratteristiche, come si comportano e i concetti che le riguardano, abbiamo visto il suono, quindi le onde acustiche, le onde elastiche che si propagano in mezzi continui come l'aria o l'acqua. Oggi vediamo un altro grande fenomeno relativo alle onde che è l'ottica. Ok, le solite specificazioni, l'ottica in origine, il primo trattato di ottica è di Euclide addirittura, significa studio della visione, cioè come fa l'occhio a vedere. Adesso l'ottica ha assunto il significato di studio della luce, di studio dei fenomeni riguardanti la luce. I fenomeni fondamentali qui sono per esempio riportati nelle due figure, la riflessione o l'arcobaleno. In particolare vedremo alcuni concetti cruciali relativi alla luce, in particolare la natura della luce, che tipo di fenomeno è, quali sono le sue caratteristiche in che cose si manifestano e la velocità della luce. Cominciamo proprio da questa. Per moltissimo tempo, data il suo elevato valore, si riteneva che la velocità della luce fosse infinita, quindi che potesse percorrere distanze infinite in tempi nulli. Le prime misure della velocità della luce risalgono a Galilei, quindi in epoca siassimantale, ma la tecnologia e gli strumenti che aveva a disposizione non erano in grado di rilevare i tempi di spostamento della luce da un luogo ad un altro, per cui non riuscì a misurarla. La luce fu misurata come effetto secondario di un altro problema. Giovanni Cassini, che era il maggior astronomo della sua epoca, lavorava presso, è stato chiamato dal Re Sole a Parigi a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Parigi, affrontò il problema di come determinare la latitudine di un determinato posto. E uno dei modi per farlo, già suggerito dal Parco nel II secolo a.C., era quello di osservare lo stesso fenomeno astronomico da punti diversi e di registrarne l'ora. Uno dei fenomeni astronomici più facilmente osservabili sono le eclissi, per esempio le eclissi dei satelliti di Giove. E un collaboratore di Cassini, Olero Emer, nel 1676, notò che in fasi diverse dell'anno le eclissi cominciavano in tempi diversi. Questo lui lo attribuì al fatto che la velocità della luce, per arrivare da Giove alla Terra, percorre distanze diverse in periodi diversi dell'anno, che vedete per esempio la posizione in giugno e in dicembre dell'orbita della Terra rispetto a quella di Giove, con i suoi satelliti. E quindi ha calcolato, sapendo le dimensioni dell'orbita terrestre e le differenze tra i tempi dell'eclissi, quale doveva essere la velocità della luce, cioè il tempo in cui la luce percorreva il diametro dell'orbita terrestre. Ha ottenuto un valore decisamente decente, 2,25 in 10 alla 8 metri al secondo. Misure non astronomiche della velocità della luce risalvono a FISO, quindi prima parte del XIX secolo, in cui mandando un raggio luminoso attraverso i denti di una ruota dentata che ruotava, si può far ruotare la ruota in modo tale che il tempo in cui uno dei denti passa da una posizione all'altra sia esattamente quello che la luce impiega per andare allo specchio, riflettersi e tornare indietro. In questo modo, conoscendo la velocità di rotazione della ruota dentata e la distanza ruota specchio, si può determinare quale è la velocità della luce. Attualmente il valore è di circa 3 per 10 alla 8 metri al secondo. E si indica quel termine con la lettera C che significa proprio acceleritas, rapidità. E la C, la velocità della luce, diventerà un personaggio molto importante nei temi che tratteremo l'anno prossimo, perché è il punto cardine, il punto nodale della teoria della relatività ristretta che faremo verso la fine dell'anno, più o meno a un anno e qualcosa da adesso. Andiamo a vedere rapidamente alcuni dei fenomeni fondamentali riguardo alla natura e la caratteristica della luce. Il più semplice è quello della riflessione. Le leggi della riflessione sono già tabulate, già noti in epoca antica, ci sono, appaiono per esempio nel trattato di ottica di Arone di Alessandria, e se la luce colpisce, un raggio luminoso colpisce una superficie liscia riflettente, allora si chiama angolo incidente, l'angolo che la direzione di propagandazione della luce, cioè il raggio incidente, forma quella verticale sulla superficie. Quindi questo θi è l'angolo incidente. La riflessione avviene in modo tale che l'angolo che è il raggio riflesso, forma quella verticale, è esattamente dello stesso valore. Quindi θi vale θr, cioè l'angolo di incidenza vale quanto quello di riflessione. E qui la teoria corpuscolare della luce fa salti di gioia, perché questo è esattamente quello che si osserva se io lanciassi, anziché un raggio luminoso o una pallina o una sfera o comunque un corpo non deformabile verso la superficie. Si riflette nello stesso modo. Quindi questo è un aspetto facilissimamente interpretabile in termini di teoria corpuscolare. Ok? Qui ne avete una dimostrazione, c'è un breve filmato. Ditemi se riuscite a sentire l'audio. Qui c'è un goniometro, non so se riuscite a vederlo, ho visto da sopra, che è su una barra. Qui questo fascetto bianco che vedete, in realtà è un laggio laser che viene da destra e colpisce perpendicolarmente qui dove c'è uno specchio. Ok? Sentiamo il commento. Il fenomeno fisico della riflessione avviene quando un raggio di luce incontra una soproficie riflettente. In tale situazione il raggio rimbalza e torna indietro. La legge che regola il fenomeno è molto semplice e afferma che l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. Ad esempio, se l'angolo di incidenza è di 30 gradi, allora lo è anche l'angolo di riflessione. Molto semplice, no? Questo si vede abbastanza bene, avete il raggio incidente che è questo. Qui lo specchio è stato ruotato. Questa è la normale, cioè la normale, perpendicolare e ortogonale sono sinonimi. Questa rete è perpendicolare alla superficie dello specchio. Questo è il raggio riflesso e vedete che i due angoli hanno lo stesso valore. 30 gradi l'incidente, 30 gradi quello riflesso. Ok? Se invece la superficie colpita dal raggio luminoso non è liscia, ma è quindi rugosa, come potete vedere da questo profilo. Allora la riflessione avviene sì, cioè i raggi di luce si riflettono sì, però secondo direzioni diverse, perché quello che conta è la normale punto per punto. Per cui gli angoli di incidenza adesso cambiano a seconda di dove mi trovo sulla superficie. Questa riflessione, diciamo così, disordinata dovuta alla rugosità della superficie prende il nome di diffusione. Ok? Quindi se tutti gli oggetti sono in realtà bene o male rugosi a livello microscopico, se uno lo è anche a livello macroscopico, allora la riflessione non è più coordinata, ma la luce viene diffusa praticamente in tutte le direzioni, che è il fenomeno per il quale noi vediamo gli oggetti. Gli oggetti che normalmente abbiamo attorno non sono perfettamente lisci, quindi riflettono la luce in tutte le direzioni, per cui parte di questa luce arriva ai nostri occhi e noi riusciamo a vederli. Questo fenomeno, ripeto, prende il nome di diffusione. Se potremmo intenderlo, ripeto, come una riflessione non in tutte le direzioni. Qui c'è un altro esempio, quello che succede se la superficie è liscia, vediamo la luce solo a determinati angoli, se invece è rugosa la vediamo solo principalmente in una direzione. Qui per esempio c'è la luce della luna riflessa sulla superficie del mare, quindi la vediamo solo se siamo in determinati angoli rispetto alla posizione di sorgente e superficie riflettente. Un altro fenomeno importante è quello della rifrazione. Che cosa succede? Beh, quando il raggio di luce colpisce una superficie che è riflettente ma è anche trasparente, cioè può essere attraversata dalla luce, allora l'angolo, oltre ad esserci un raggio riflesso, lo vedremo tra un attimo, parte della luce incidente prosegue, cioè si propaga anche all'interno del mezzo trasparente, come per esempio potrebbe essere la luce che colpisce una superficie di vetro, di vetro non di uno specchio ma di un vetro trasparente. In questo caso il raggio che si propaga all'interno del secondo mezzo, il mezzo 2, si chiama raggio rifratto. Ok? E qui l'angolo di rifrazione, θ2, non è in generale uguale all'angolo di incidenza, θ1. Ok? Per quale ragione? Beh, perché la natura dei due mezzi è diversa e vengono caratterizzati da quello che si chiama indice di rifrazione, tra un attimo vediamo di cosa si tratta, e uno degli aspetti anche importanti di questo processo è la sua reversibilità, cioè se il raggio passa dal mezzo 1 al mezzo 2, subisce una certa rifrazione e subisce la rifrazione inversa, cioè passa da θ2 a θ1, passando da, se inverto il cammino ottico, ecco, se il raggio arriva dal mezzo 2, attraversa la superficie tra 1 e 2, viene rifratto all'angolo θ1, che prima invece era l'angolo di incidenza. Ok? Questo processo è alla base di diversi fenomeni ottici. Qui per esempio vedete una persona che sta guardando la vasca dei pesci e vede, in realtà dentro il pesci non è una sola, ma ne vede come se ne fossero due. Qui c'è un disegno, qui a fianco avete l'immagine, qui vedete le stesse oggetti su una superficie, su un piano della superficie della vasca e anche sull'altro. Perché? Proprio per la rifrazione, cioè dovuta al fatto che la luce passando dall'acqua al vetro e poi all'aria subisce una, tra virgolette, deviazione. Questa specie di deviazione, torniamo un attimo indietro, prende il nome di rifrazione. D'accordo? In che cosa consiste? Beh, vediamo se riusciamo a vedere, ecco, prima un filmato. Immaginate di avere appunto un raggio laser monocromatico, la superficie, quella sopra, bianca, è l'aria, quella sotto è il vetro, accendiamo il nostro laser, vedete che c'è una parte del raggio che viene riflesso, allo stesso angolo di incidenza, un'altra parte viene rifratta e l'angolo di rifrazione dipende dal tipo di materiale. Se cambiasse il materiale, cambierà l'angolo. Questo è legato al fatto che in mezzi diversi, la luce si propaga con velocità diverse. Nel vetro, la luce è più lenta e quindi cambiando velocità si produce questo fenomeno detto appunto della rifrazione. D'accordo? Qui c'è un altro modo di vederlo, se riuscite a osservare il... nel... nel... scusate, ecco. voglio mettere in pausa il filmato, è quello qui. Nell'aria, la luce ha velocità c 300.000 km al secondo e qui vedete le bande colorate che danno idea della lunghezza d'onda. E al passaggio tra una superficie, tra un mezzo e l'altro, il tempo di oscillazione dell'onda luminosa rimane lo stesso ma la lunghezza d'onda si riduce. Ok? E questo fa sì che la velocità nel mezzo sia di tipo diverso, sia ridotta. La velocità della luce nei masi materiali è più piccola. E... questo spiega bene il fenomeno della rifrazione è facile interpretarlo, tra un attimo vediamo il perché, mentre non è spiegabile in termini di teoria corpuscolare. nei mezzi più densi la teoria della corpuscolare prevede, cioè la teoria che immagina che la luce sia fatta da corpuscoli, prevede che la luce si sposti più velocemente. Ecco, questo è un banco di prova che va contro la teoria corpuscolare mentre è a favore di quella ondulatoria. Vediamo di concludere il filmato. vedete la rifrazione e... se non c'è altro prossimo... ecco, se aumento l'indice di rifrazione del mezzo a 1.6 abbiamo un angolo di rifrazione ancora più. quindi l'indice di rifrazione questo numero che caratterizza i mezzi nell'aria vale circa 1 nel mezzo in questo caso era 1.6 è un numero che vi dice quant'è la velocità nel mezzo cioè la velocità nel vetro è uguale alla velocità della luce nel vetro può essere espressa come la velocità della luce nel vuoto c diviso l'indice di rifrazione che è normalmente più grande di 1 quindi in un mezzo con un indice di rifrazione alto la velocità della luce è bassa è piccola ok? si muove quindi più lentamente qui avete una schema geometrica che vi dice che cosa succede ecco se qui ho i raggi incidenti questi due raggi A e B quindi è il fronte d'onda della luce in arrivo il fronte d'onda viene deviato a causa della rifrazione quindi nel mezzo che questo questo ambiente colorato in arancione la velocità è più piccola per cui la distanza tra percorsa dalla luce nel mezzo 1 l'aria è da B a B' nello stesso tempo nel mezzo con l'indice di rifrazione più grande va da A ad A' dei due fronti di rifrazione hanno in comune solamente la parte A della lunghezza A B e quindi se esprimiamo B B' come la distanza percorsa dalla luce nel tempo T quindi è V1 T e V1 è la velocità della luce nel mezzo 1 allora A A' se la distanza è percorsa nello stesso tempo ma la velocità è V2 perché qui siamo nel mezzo 2 A B è la parte comune quindi qui si può isolare A B e vediamo che abbiamo che il rapporto V1 T su sen teta 1 e V2 si su sen teta 2 è lo stesso in entrambi i mezzi perché A B è la stessa per cui la velocità V1 su teta 1 vale quanto V2 su teta 2 vediamo solo un secondo ecco da cui tenendo conto che la velocità della luce si può esprimere come la velocità della luce nel vuoto diviso l'indice di rifrazione sostituendo a V1 e V2 le loro espressioni abbiamo che C la velocità della luce nel vuoto diviso N1 senteta 1 è uguale a C diviso N2 senteta 2 dal punto di vista algebrico è abbastanza semplice qui i due numeratori sono identici per cui lo saranno anche i due denominatori quindi ho il prodotto tra l'indice di rifrazione per il seno dell'angolo che il raggio forma con la normale ha lo stesso valore nel mezzo 1 e nel mezzo 2 questa è la legge che si chiama appunto disnell cartesio sulla rifrazione quindi più grande è l'indice di rifrazione se N2 è grande teta 2 è piccolo perché il prodotto deve essere lo stesso che c'era nell'aria se il mezzo 1 per esempio è l'aria d'accordo qui vediamo filmato proprio sulla rifrazione sto usando la simulazione del fet ecco rifrazione della luce in pratica quella che abbiamo appena visto prima è molto simile ok qui si possono misurare gli angoli vedete l'incidenza qui abbiamo l'angolo di incidenza che è ecco sto fisso a 30 gradi 30 gradi l'angolo di riflessione e invece ho 20 22 21 gradi quello di rifrazione perché N è più grande se aumento N l'angolo di rifrazione è più piccolo perché N volte se in teta deve essere lo stesso ok quindi cambia secondo me ovviamente se ho aria aria i due mesi sono lo stesso la propagazione è rettilinea d'accordo immaginiamo di invertire il processo di passare quindi da un mezzo di inizio di spazione alto a uno basso si produce un fenomeno particolare perché se in queste condizioni mettere in pausa se passo da un mezzo di rifrazione alto a uno basso allora l'angolo di incidenza sarà più piccolo di l'angolo di rifrazione perché il prodotto indice di rifrazione per Sen dell'angolo è lo stesso quindi se N aumenta Sen diminuisce passando dal mezzo uno al mezzo due l'angolo aumenta ma quindi può succedere che ho un angolo di incidenza tale che quello di rifrazione è di 90 gradi ok in quel caso ho un fenomeno curioso che è la riflessione totale se aumento l'angolo di incidenza arrivo a quella di rifrazione e quindi l'angolo il raggio nel mezzo due viene completamente riflesso cioè non ho più il raggio rifratto quindi la luce in questo caso rimane tutta all'interno del mezzo con l'indice di rifrazione più alto questo fenomeno si chiama fenomeno della riflessione totale che avviene quando la luce proviene da un mezzo con l'indice di rifrazione alto incide su una superficie che separa questo da un mezzo con l'indice di rifrazione più basso e se l'angolo di incidenza è sufficientemente grande superiore di un angolo critico ho la riflessione totale ecco qui viene esplicitato supponete di avere il mezzo 1 con l'indice di rifrazione più grande di quello 2 la luce arriva da sinistra incide in questo punto viene rifratta ad un angolo teta 2 più grande di teta 1 e parte viene rifratta e parte riflessa ma se teta 1 supera un certo valore critico teta c allora l'angolo rifratto forma quella verticale 90 gradi quindi in pratica non c'è più angolo rifratto ma tutta la luce viene riflessa per angoli superiori a questo critico basta mettere se in teta 2 uguale a 90 quindi se in teta 2 fa 1 abbiamo che il seno dell'angolo critico nel mezzo n1 vale n2 fratto n1 vedete n2 è più piccolo di n1 quindi questo è il numero più piccolo di 1 per i valori più grandi di quest'angolo ho riflessione totale ok questo è un fenomeno appunto che avviene quando ho superfici che separano due mezzi di rifrazione diversi in particolare quando la luce passa da rifrazione alta all'indice di rifrazione basso ci sono molte applicazioni di questo processo una forse la più famosa la più importante è quella delle fibre ottiche la fibra ottica non è altro che un filo lungo un tubicino di fatto pieno fatto di materiale che può trasmettere la luce un materiale trasparente ma con un'indice di rifrazione più grande dell'aria o di quello che lo circonda in questo caso quando la luce entra in questo in questo tubicino in questo mezzo trasparente e colpisce le pareti si verifica il fenomeno della riflessione totale cioè la luce rimane contenuta dentro questo tubicino e può seguire traiettorie curve ok addirittura in qualche caso si mettono la fibra ottica la fibra ottica ha struttura con un indice di rifrazione interno più alto e poi contornata da una specie di pellicolo di contenitore con un indice di rifrazione più basso per garantire meglio l'effetto della rifrazione totale questo può venire utilizzato per esempio in medicina per tutti i fenomeni per tutte le attività di endoscopia immaginate di avere molte fibre affiancate ok e questo può essere utilizzato per ricostruire immagini che avete per esempio l'endoscopia del cavo dell'apparato digestivo li posso andare con un tubicino che è fastidioso ma insomma non è molto invasivo quindi non permette di andare a esplorare in cavità o ambienti all'interno del corpo umano cose che altrimenti non sarebbe possibile se non per via chirurgica con evidenti problemi aggiuntivi quindi avete un esempio di endoscopia oppure si può utilizzare ad esempio nei mezzi per aumentare la distanza focale distanza tra le lenti gli oculari di un binocolo utilizzando la riflessione interna totale in prismi che stanno all'interno del cammino ottico della luce quando usiamo il binocolo come in questo caso ok altro punto fondamentale la relazione tra la luce e i colori ok questo è un punto molto importante prima di questo esperimento di Newton che viene chiamato esperimentum crucis cioè l'esperimento cruciale cioè quello che decide tra una teoria o un'altra l'idea era che la luce è una luce bianca la luce del sole è una luce pura e che i colori sono delle perturbazioni delle alterazioni delle colorazioni appunto della luce bianca nell'anno in cui Newton era a casa a causa della peste a Cambridge condusse molti esperimenti alcuni dei quali riguardavano proprio la natura della luce successivamente scrisse era diventato nel 1672 era diventato da poco membro della Royal Society per aver prodotto un telescopio particolarmente efficace scrive al segretario della Royal Society in cui gli dice che gli avesse fatto una scoperta filosofica come diremo scientifica che dice lui a mio giudizio è la scoperta più strana se non la più considerevole che sia stata compiuta finora nell'operazione della natura cioè dice ho fatto una scoperta più grande di quelle fatte fino adesso il segretario la prende come una fanfaronata non ci bada ok e dopo un po' dopo qualche settimana Newton scrive la relazione completa a Oldenburg il quale la riceve l'8 febbraio del 1672 mentre sta proprio organizzando un convegno una riunione quindi della Royal Society e decide di Newton era assente non era in quel frangente decide di far leggere la relazione di Newton durante la riunione e dopo la riunione stessa risponde a Newton dicendo la lettura del suo discorso sulla luce e sui colori fu quasi l'unica cosa su cui si concentrarono i loro interessi degli astanti e posso assicurarle dice il signore che fu accolto con una singolare attenzione ed un applauso non comune e quindi da qui l'importanza appunto dell'esperimento questo mostra quanto fu fece scalpore l'esperimento a quell'epoca qui abbiamo alcuni disegni fatti da Newton stesso che sono poi pubblicati nel suo libro sull'ottica e che cosa ha fatto ha preso un prisma una fiera e ci ha fatto passare della luce e ha osservato l'effetto il suo il suo colpo di genio fu di usare non un solo prisma ma due e vedere cosa fa il secondo prisma sulla luce così così ottenuta vediamo un breve filmato che descrive l'esperimento di Newton spero che sia chiaro riuscite a sentire al momento non vediamo niente non sentiamo adesso parte ok questo è dell'MIT quindi è un ottimo filmato in questo video we're going to look at the relationship between white light and color by recreating a portion of Newton's prisma experiment as presented in a letter to the royal society in 1671 but first a little bit of background at the time of his experiment the prevailing theory was that white light was a color of light and that other colors could be created by modifying the white light somehow for instance this red piece of plastic would be described as changing this white light into red light qui sta parlando di cosa si riteneva fossero i colori i colori sono alterazioni della luce bianca che è una luce semplice che è una luce pura non colorata colorata dopo no scusate qui sta ripetendo la legge sulla rifrazione che abbiamo appena visto white light in color by recreatment this person in 1671 but first a little bit of background at the time of his experiment the prevailing theory was that white light was a color of light and that other colors could be created by modifying the white light somehow for instance this red piece of plastic would be described as changing this white light into red light they also had knowledge about how light behaved at the boundary between two materials for instance at a planar boundary they knew that the ratio of the sine of the angle on each side of the boundary was fixed for a given set of materials we now know this is a form of Snell's law where the ratio of the sines of the angles is equal to the inverse ratio of the refractive indices of the materials where the refractive index of the material is related to how fast light propagates through it this expression allows us to predict what will happen at a planar boundary as we change the angle of instance it also allows us to deal with more complicated shapes like this triangular prism it's just a matter of geometry and keeping track of the angles Newton was working on designing lenses for telescopes when he decided to investigate the phenomenon of prismatic colors those are the colors that occur when you pass white light through a prism so he obtained a triangular prism and he passed some white light through it and he saw a rainbow just like he expected but then he noticed something in the direction that the colors were spread the pattern was much wider than it should be based on the system geometry if light obeyed this fixed sign ratio law non so se è chiaro qui la prima osservazione è questa se io mando un raggio di luce bianca luce solare sul prisma ok e tengo conto delle leggi della rifrazione che erano note anche all'epoca di Newton qui dovrei avere una 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 deviazione ok determinata da questo rapporto angolare invece qui si osserva una distribuzione di colori con un intervallo cioè uno sparpagliamento chiamiamolo proprio per usare termini semplici molto più sensibilmente più grande di quello che mi aspetterei se la luce fosse cioè se la relazione fosse semplicemente questa intanto già questo ci dice che questi colori qui ripeto il prisma non è colorato il prisma è trasparente bianco non dovrebbe alterare la luce quindi il fatto che la luce bianca venga separata in colori diversi ci permette di dire che la luce in realtà è una sovrapposizione di tanti colori che vengono scomposti nel mentre mentre attraversano il prisma quindi in realtà la luce bianca non è una luce pura ma è una luce mista di tutti i colori quindi quello che succede che cos'è è che la luce che è composta di tanti colori diversi ok viene separata nelle sue componenti quindi vengono separate diversi colori perché la rifrazione di ciascuna componente quindi ciascun colore è diversa a seconda del colore quindi questo è il fenomeno della dispersione che rivedremo tra un attimo quindi ogni raggio di luce segue a un indice di rifrazione ripeto n diverso quindi segue traiettorie diverse quindi viene tra luce viene scomposta e quindi sbrodolata in questo arcobaleno proprio perché ogni componente della luce bianca segue una rifrazione diversa vedete se mettiamo una lente scuola raggio di luce rifratto i raggi di luce vengono concentrati dalla lente in un punto che è il fuoco della lente e quando tutti i raggi si ricompongono in un solo punto torno a ottenere la luce bianca quindi questo ovviamente nel fuoco della lente i raggi i colori della luce vengono ricomposti cioè se ha il fenomeno inverso se li risovrappongo tutti dopo che il prisma li ha scomposti riottengo la luce bianca meglio ancora se usa un altro prisma li ha ancora i colori perché sono fuori del fuoco un altro lo so parell e la luce porta tutta attra attra il mitra sport ok che attra si attra 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 alla luce attra lense, è still clearly a spectrum. So is there a way to combine this white light so that we get a beam of white light sort of like we had at the input? It turns out the answer is yes, but it's a little bit more complicated than you would expect. So a lot of books are out of this system where we start with our original prism and we put a second one in something like this. And to our eyes this looks like it's working, but it's not really. All that's really happening is the light hasn't had enough time to spread. So it looks like it's white, but if you had a very sensitive instrument you'd be able to tell that there's a change in color across this. And you can see it more clearly by eye if we place this prism further down. Over here it's clear that there's a change in color across the lip of the beam. If you really want to make a beam of white light from this colored spectrum, you can follow the method outline in Newton's optics. This comes from his last experiment in book one. You start with a prism that we had before. Then you add a lens to the system and you want this length to be roughly twice the focal length of the lens. At some distance away from the lens we'll put another prism. And this distance again should be roughly twice the focal length. We adjust the prism and what we see is a reasonable approximation of white light. Now you really should build this system with a much larger focal length lens and should build a much wider system to get a really good separation between these colors here and a very clear white beam at the output. But for this video this will work. Thank you for watching. I hope you found this material interesting. If you'd like to learn more about Newton's optics experiments I'd recommend two resources online. One is the project Gutenberg where you can find a copy of Newton's book optics and the other is the Newton project where you can find a copy of most newspapers. Ok. Ci sono domande? Prima vedere la stessa. Prego. Bene. Possiamo ripetere quanto ho visto nel filmato con questa simulazione. Qui abbiamo un raggio di luce monocromatica rosso. Pogliamo il prisma. Ok. Il primo fatto di vetro. Un certo undice di rifrazione. Vediamo che la luce viene deviata. Se però cambiassi il colore della luce monocromatica, sempre ripeto, vedo deviazioni diverse. Quindi colori diversi subiscono rifrazioni diverse. Vedete che la direzione è diversa dal raggio rifratto. Ecco il motivo per il quale se io uso la luce bianca, se io uso la luce bianca, questa viene separata nelle sue componenti. Vedete qua sotto che c'è proprio l'arcobaleno, cioè proprio lo spettro di colori dovuto al fatto che ogni colore ha la sua rifrazione. E quindi i colori che compongono la luce bianca vengono rifratti in modo diverso, per cui si scompongono in raggi diversi. Ok. Ecco, questo è un altro, lo potete che riassume quanto appena detto, appunto, la luce bianca che è il misto di tutti i colori, viene rifratta perché indici di rifrazione diverse hanno, caratterizzano colori diversi. Ok. Qui vedete anche questa figura, la luce rossa è quella che viene rifratta di meno, quella blu è quella che viene rifratta di più. Quindi l'indice di rifrazione per il blu o il viola è più alto che non per il rosso. Quindi la realtà cambia. Cambiando questo abbiamo traiettorie, meglio, possiamo così dire, diverse, di raggi diversi. Una conseguenza di questa, della dispersione, è l'arcobaleno. Noi vediamo l'arcobaleno perché? Beh, perché la luce che viene dal sole, noi siamo in questa posizione qui, più o meno, colpisce le goccioline di acqua disperse in aria dopo la pioggia e subisce rifrazioni e riflessioni che hanno angoli diversi perché l'indice di rifrazione dell'acqua non è quello dell'aria. Quindi segue rifrazioni diverse per cui dalla luce, dalla gocciolina, scusate, emerge lo spettro dei colori, cioè si comporta come il prisma, riflettendo addirittura all'indietro. D'accordo? E quindi, da come sono disposte le goccioline nell'aria, riesco, ad angoli diversi, a vedere proprio rifrazioni diverse, perché vengono riflette ad angoli diversi. D'accordo? Addirittura qualche volta, se la rifrazione interna è doppia, posso vedere un doppio arcobaleno, con i colori invertiti. Quindi qui il rosso è quello più esterno, qui il rosso è quello più interno. Un'ottima esposizione riguardante il processo che produce l'arcobaleno è del professor Walter Liumi, magari vi metterò il link sulla pagina. Ok? Boh, io direi che per oggi ci fermiamo qui, completiamo con la natura un'ottentura della luce la volta prossima.